Livorno e il sopporto di Alessandro Brunetti 17esima puntata Dopo l'unità d'Italia, lo scalo labronico è afflitto da una parziale crisi dovuta al fatto che sono abolite le franchigie di cui gode diminuisce il numero delle navi ma aumenta la loro stazza grazie all'evoluzione dei trasporti marittimi. Il movimento complessivo delle merci mostra un continuo aumento dei traffici. Si ha una prevalenza degli sbarchi sugli imbarchi, si sbarcano carbon fossile, cereali, prodotti alimentari, chimici, tessili, metallurgici, legnami, materiali da costruzione si imbarcano prodotti agricoli e metalmeccanici L'avammare di Livorno, nei primi vent'anni dopo l'unità d'Italia, è rappresentato da una ventina di stati indipendenti e da alcune colonie La tendenza all'aumento dei traffici, manifestata alla fine dell'Ottocento, si conferma anche nei primi 16 anni del Novecento Il numero delle navi si stabilizza sulle 4.000-4.500 unità per decadere attorno alle 2.000 negli anni della Prima Guerra Mondiale In seguito c'è una lenta ripresa fino a ritornare sui valori precedenti negli anni 30 per poi precipitare alle 31 unità del 1945 La prevalenza degli sbarchi sugli imbarchi è sempre assai netta Attorno al 1938 lo scalo labronico presenta un'importanza carboniera I due terzi del movimento sono rappresentati da carbon fossile e coke Si sbarcano anche combustibili solidi, oli minerali, fosfati, prodotti chimici, rame, legnami, metalli e macchine e si imbarcano marmi, alabastro, calce, cemento o laterizi, prodotti derivati dalla lavorazione del borace Il porto di Livorno esporta i due terzi del totale nazionale dei marmi ed è definito porto di esportazione marmifere Si ha un'accentuazione del carattere internazionale dello scalo A compenso delle flessioni del traffico verso la penisola iberica, il Mediterraneo e il Mar Nero aumenta il rapporto con l'Europa occidentale e settentrionale Le sovvenzioni statali alla navigazione fra le due guerre portano all'istituzione di numerose e frequenti linee che servono i principali porti e le colonie Il porto di Livorno arriva ad essere servito da 50 linee e il traffico dei passeggeri è in continua scesa Dopo le distruzioni della seconda guerra mondiale il traffico riprende con una certa lentezza anche a causa della permanenza delle truppe alleate poi accelera, fino a raggiungere e superare i valori prebellici Col passare del tempo sono accolte anche navi sempre più grandi che battono bandiera estera Nel dopoguerra hanno grande importanza i prodotti petroliferi che non affluiscono più allo stesso modo in tutti i porti italiani Continuano a prevalere gli sbarchi sugli imbarchi e si manipola una grande varietà di merci ma la voce principale sono gli oli minerali greggi e derivati Da allora il porto è stato in costante crescita La prima flessione negli scambi si ha nel 1975 Potete riascoltare questa puntata in on demand su www.livornomagazine.it e nella sezione FlashTube di www.radioflash.info